Allarme maltempo, sommersi, un mare di fango. Questo il titolo proposto oggi dal Corriere delle Alpi per dare conto delle conseguenze dell'ondata di maltempo che ha interessato il Veneto nei giorni scorsi. Una ondata di maltempo che si è fatta sentire in particolare nella parte meridionale di pianura del Veneto ma che è stata avvertita anche in provincia di Belluno. Argini rotti, esondano i fiumi, famiglie evacuate, un fenomeno mai visto scrive il Corriere delle Alpi. Dopo le grandi piogge l'acqua straripa, allagamenti da Camposampiero a Castelfranco, da Asolo a Mestre. Acqua nel centro di sterilizzazione dell'ospedale di Camposampiero e nell'interrato di quello di Cittadella. Bacini di laminazione di Orolo, Colombaretta e Muson dei Sassi riempiti al 100%. Sono stati provvidenziali. Queste alcune note proposte dal Corriere delle Alpi nelle pagine dedicate a questa ondata particolare di maltempo che si è fatta sentire anche in provincia di Belluno, a cui il Corriere delle Alpi dedica una pagina con questo titolo. Pioggia, fango e smottamenti sui sentieri. Saette in Val Belluna. Scoppia un camino. Nel Bellunese due fulmini a Trichiana e Limana hanno scatenato il panico in due case, 30 interventi dei vigili del fuoco. Fulmini sulle case a Polentes di Limana e a Borgo Val Belluna. Poi colate fangose lungo i sentieri come quello verso la Val Medon a Belluno. Scantinati allagati, acqua nei garage. Ma la notte di tempesta tra giovedì e venerdì è passata via senza particolari danni a cose o persone nel Bellunese. Per fortuna i danni e i problemi sono stati molto minori rispetto ad altre zone del Veneto. Ma andiamo alla parte del giornale che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno. Parte che inizia presentando il tema del caro energia. Bollette del gas da capogiro. Allarme delle associazioni dei consumatori. Il passaggio al mercato libero è del gennaio scorso. Ora solo gli utenti vulnerabili possono ottenere le tariffe decise da Arera che è l'autorità di regolamento del settore. Un invito all'interno della pagina a informarsi bene, a rivolgersi a chi ha competenza sul settore per trovare ciascuno la soluzione migliore al suo caso. E da questo tema di carattere economico passiamo a un altro di natura invece politica che riguarda gli equilibri in provincia di Belluno. Dopo che nel consiglio provinciale di giovedì scorso è stata sancita una rottura tra i consiglieri di centro-sinistra e il resto del consiglio. Il presidente della provincia Padrin spera ancora in un accordo, in una possibilità, di assegnare a tutti i consiglieri qualche delega e di fare un lavoro comune tra tutto il consiglio. Una speranza che però pare stoppata in modo definitiva dal PD, dal segretario provinciale del Partito Democratico che sottolinea le distanze su alcuni punti a partire da quello delle Olimpiadi di Cortina rispetto ad altri componenti della provincia di Belluno e quindi sottolineando queste differenze ritiene impossibile un lavoro comune non ritrovandosi in accordo su tanti punti. Accordo che invece secondo il presidente Padrin, almeno su alcuni dei punti oggi oggetto di contrasto, potrebbe essere trovato senza troppe difficoltà. Passiamo ora alla cronaca dal comune di Belluno. Torna dopo sei anni la festa dei cortivi. Cirvoi rinnova lo spirito della frazione. Artigianato, arte, musica e comunità nella festa in programma domani per tutta la giornata. Previste anche passeggiate ed escursioni. Servizio navetta da Castion, Caleipo e da Faverga per arrivare a Cirvoi. Medicina generale. Una donna alla guida. È stata presentata ieri la bellunese Anna Maria de Pellegrin che lavora dal 2016 nel reparto di medicina generale dell'ospedale San Martino di Belluno e che ora ne è diventata responsabile. Integralmente sport e cultura fa il botto. Oltre mille studenti ieri all'evento finale di questo progetto organizzato dall'ASSI, l'associazione che oltre alla pratica sportiva mette in primo piano anche la disabilità e gli aspetti di inclusione legati allo sport. Sono appunto stati oltre mille gli studenti ieri che hanno vissuto alla spessa arena di Belluno l'atto finale di questo progetto. Ed eccoci a Feltre. Aperta la sala per fare musica, spazio per i gruppi locali. La sala è al campus di Borgo Ruga. Chiusa a causa della pandemia, nel locale è stato rifatto l'impianto elettrico. L'assessore dalla Palma, felici che un gruppo di giovani si sia fatto avanti per gestire questa sala. Il GILF cerca volontari. Ci servono forze fresche allo stand gastronomico. Una richiesta in vista della prossima mostra dell'artigianato artistico e tradizionale di Feltre. Ed eccoci a San Gregorio nelle Alpi. No all'antenna per il 5G. Raccolta firme a Cassol. I residenti della frazione, al confine con Santa Giustina, si stanno mobilitando contro la struttura alta 30 metri. Privati e comunità generosi. Si sistema a pedavena l'organo Callido. Il parroco Don Alberto, nel giro di poco tempo, sono stati raccolti 22.000 euro. Lo strumento è dotato di 1.155 canne. I lavori andranno avanti per tutta l'estate. Ed eccoci a Sedico, che ha di nuovo un pediatra aperto l'ambulatorio al MAS. Lo specialista Simone Carbonio ha iniziato l'attività negli spazi sopra la farmacia comunale, in carico dall'Ustolomiti con il vincolo di avere la sede nel territorio comunale. Scontro sulla Gordina, quattro feriti e code. Un tratto della Gordina in comune di Sedico. Chiusure stradali e navette. Scatta il piano per il passaggio del Giro d'Italia in provincia e in particolare in Alpago, dove sabato prossimo, 25 maggio, ci sarà la partenza della tappa che poi dopo aver scalato per due volte il Monte Grappa si concluderà a Bassano. Un orso farazzia di Arnie a Fornesighe in Zoldo, scorpacciata da 80 chili in una notte. Danni pesanti all'apiario di Renato Pancera, circa 500.000 api morte, ma era già successo nell'estate di 11 anni fa, ricorda. Il sindaco rassicura è un animale di passaggio e non c'è pericolo. Questo è stato confermato anche dagli agenti della Polizia Provinciale. Ed eccoci a Cortina. I grandi eventi trainano l'estate. Agosto e settembre già l'8% avanti. Soggiorni più brevi e mirati, che significano però maggiore di cambio e aumento dei flussi turistici. Altra nota lieta, luglio, dopo un avvio lento, ora fa registrare il 61% di occupazione di letti. Prospettive quindi positive per il turismo di Ampezzo. L'hotel Auronzo va in gestione, salvo il ritiro estivo della Lazio. Deserta l'ennesima asta per la vendita. La romana Six Hotel riaprirà la struttura, l'affidamento fino a fine ottobre, sperando che nel frattempo arrivi un acquirente della struttura. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino, che in prima pagina mette una notizia di carattere economico. La Russia colpisce Unicredit. La guerra del Cremlino all'Italia, sequestrati beni e fondi alla banca per mezzo miliardo. Si tratta di una decisione della Corte di San Pietroburgo. Il governo italiano, in particolare il Ministero degli Esteri, si è comunque mobilitato per seguire da vicino la vicenda. Naturalmente anche sul Gazzettino viene dato anche ampio spazio alla cronaca del maltempo che ha interessato in questi giorni il Veneto, in particolare nella sua parte di pianura. Ma tra le pagine generali viene dato spazio anche al passaggio dell'orso in Zoldo. Un orso a spasso di notte nel Bellunese. Si mangia 80 chili di miele biologico. Il passaggio del plantigrado in Val di Zoldo nelle vicinanze di Fornesighe. Distrutte le otto arnie e danneggiate le altre. L'apicoltore mi basta essere risarcito. E questa notizia viene ripresa dal Gazzettino di Belluno anche all'inizio della parte dedicata proprio alla provincia. L'orso attacca arnie devastate. Ma nella prima pagina della parte provinciale la foto maggiore è dedicata a un ciclista bellunese Pietro Bon definito eroe del giro perché è il primatista delle fughe. È quasi tutto pronto per la ventunesima tappa del Giro d'Italia con partenza in Alpago e arriva a Bassano del Grappa scrive il Gazzettino di Belluno. Intanto ieri grande fuga del cadorino Andrea Pietro Bon nella tredicesima tappa Riccione 100. È in testa alla speciale classifica dei ciclisti autori di fughe. Ma andiamo all'interno del Gazzettino e qui troviamo un approfondimento sul passaggio dell'orso in Val di Zoldo. Orso che è stato fotografato la settimana scorsa anche a Casera Razzo. Un esemplare di passaggio. Ed eccoci a Belluno. Medicina generale, due donne alla guida. L'Ulsuno Dolomiti presenta la nuova primaria Anna Maria de Pellegrin e la coordinatrice infermieristica Seila Dorigo. Il reparto è lo snodo cruciale dell'ospedale San Martino. Il direttore generale dell'Uls Dalben ha sottolineato che fa da filtro perché la persona è valutata nel suo insieme. Volontari in 40 anni donati 900.000 euro. I gruppi Insieme si può di Cusighe e Sarniano si preparano a festeggiare i quattro decenni di vita con tanti eventi da domenica 26 maggio. Rita Battiston, che nel 1985 fu tra coloro che avviarono i due gruppi, racconta come il grande progetto è iniziato. Mi autotassai per un anno mettendo via l'1% del mio stipendio con quel denaro. Fondai i sodalizi, dalla festa del pesce ai mercatini alla marcia della pace. Così finanziati 344 progetti in tutto il mondo. E ancora da Belluno alla scoperta del codice dantesco, manoscritto della biblioteca lolliniana. Domani l'incontro al seminario gregoriano con la storica Pasut. L'incontro è in programma alle 20.30 nell'aula magna del seminario gregoriano. Ed eccoci a Feltre. Feltrina, disagi senza fine, ora il senso unico per lavori. Riaperta ieri in tempi record, l'arteria interrotta da frana e allagamenti giovedì, ma serve lo svuotamento del Paramassi. Da lunedì divieti e interruzioni al traffico. Clivet in crescita anche in Francia, una sede più grande, inaugurata la filiale francese che conta 13 lavoratori. Raccolta di firme contro l'antenna 5G. Proteste dei residenti per l'installazione a Cassol di San Gregorio. Non vicino alla casa, sistematela in un altro luogo. Questa è la richiesta. L'intensificazione del segnale è necessaria per i continui vuoti di connettività della zona. Setteville. I pazienti della dottoressa Forlin dovranno scegliere un nuovo medico. L'ULS ha tentato in tutti i modi, ma senza successo, di trovare un sostituto alla professionista che cessa la sua attività. Ed eccoci a Sedico. Centro parrocchiale chiuso. I tecnici hanno accertato problemi di tenuta statica. Non è più sicuro svolgere attività all'interno dei locali. I parroci a un bivio. Procedere con un costoso intervento o non riaprire e spostare le iniziative. Siamo sempre sulle pagine del Gazzettino di Belluno. Alberghi. Boom di prenotazioni. Agosto e settembre in crescita dell'8% rispetto a un anno fa a Cortina, ma tutta l'estate è in aumento di quasi 14 punti. A trainare il flusso turistico i grandi appuntamenti sportivi, vacanze più brevi, ma maggiore il numero di chi se le concede. E ad omegge. Compie 73 anni il negozio di Deborah via Biral. San Pietro di Cadore. Ultima parata. Il comelico. Piange. Franco de Candido. Fiocco Nero ha listato a lutto nella pagina Facebook e soprattutto nel cuore dell'Unione Sportiva del Comelico, che ieri ha salutato uno dei suoi calciatori e dirigenti storici più impegnati e attivi, Franco de Candido Chiandon, 76enne, scomparso martedì all'ospedale di Belluno. E ancora da domegge. Cambio della guardia al CAI. Fedon subentra a Valagussa. Si tratta di Liliana Fedon, che in una foto sul giornale è ritratta insieme al presidente uscente Gianfranco Valagussa. E per lo sport. Calcio. La Dolomiti bellunesi del futuro. Potrà contare ancora su tardivo. Ieri la firma del centrocampista Vicentino. Quarta conferma dopo Perez, Marangon e Tiozzo, oltre a mister Nicola Zanini. Resto per il gruppo e per provare a migliorarci ancora un po'. Questa la dichiarazione del calciatore che giocherà ancora per la Dolomiti bellunesi. Novità nell'assetto anche per il Volei, per il Belluno Volei, che milita nel campionato di A3, che ieri ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Sarà De Cecco a guidare il Volei Belluno nel prossimo anno. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. A tutti voi il più cordiale saluto, con i migliori auguri di un buon fine settimana.